Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 L'Italia del rispetto ha da sempre al centro del suo lavoro politico La creazione di raccolte firme, di petizioni che servono a dare luce a determinate situazioni Determinati disagi che coinvolgono la città Petizioni, raccolte firme, insomma un modo di lavorare che è stato messo sotto attacco recentemente da molti cittadini Dottor Grandi, lei in quanto responsabile politico dell'Italia del rispetto Vorrei che spiegasse alle persone che ci stanno guardando su Occhio Pavese Qual è stato il lavoro svolto fino adesso dall'Italia del rispetto Quindi quali sono stati i problemi messi in luce da queste petizioni E il risultato soprattutto qual è stato perché evidentemente per qualcuno non c'è stato questo risultato Sì, buongiorno e grazie a Occhio Pavese Il lavoro del Movimento Civico l'Italia del rispetto è un lavoro che si svolge diciamo sulla strada Ecco come è stato più volte detto Cito le due ultime petizioni, quelle più attuali La petizione per la turnazione notturna delle farmacie E la petizione per la farmacia di San Vittore Nel primo caso abbiamo una forza politica della città che si è fatta promotrice Ha dimostrato sensibilità verso questo problema E per cui ha messo in campo in base all'ambito di competenza del Comune Ha messo in campo iniziative che saranno portate avanti Per quanto riguarda la farmacia di San Vittore Lo stesso sindaco dimostrando appunto di prendere in carico il problema Ci ha dato una risposta e ha fatto capire che ci potrebbe essere anche la possibilità Se non di aprire una farmacia anche di aprire un armadio farmaceutico Quindi due risultati molto importanti Che si sostanziano nella presa in carico da parte delle forze politiche Che sono nelle istituzioni del problema Il tema dei buoni mensa è stato anche questo oggetto di un'altra petizione Fatta nel 2014 Sono state raccolte circa 200 firme Nell'anno scolastico 2013-2014 si era deciso di informatizzare il sistema dei pagamenti Dei buoni mensa nelle mense scolastiche Molti genitori si erano rivolti al movimento allora Giudicando questo sistema allora faraginoso e non del tutto efficiente Perché c'erano stati dei problemi Sono state raccolte le firme Alcuni esponenti del movimento sono stati ricevuti Da esponenti della loro amministrazione I quali hanno detto che si trattava di una fisiologica fase di rodaggio Che i problemi sarebbero stati risolti A distanza di tre anni sembrerebbe che non sia così Infatti molti altri genitori sono rivolti a noi chiedendoci spiegazioni in merito E noi facciamo un appello alle istituzioni Affinché possano effettivamente risolvere il problema Anche perché adesso ci sembra che la fisiologica fase di rodaggio sia terminata Voi continuate a perseguire questa modalità di fare politica Nonostante le critiche cosa vi spinge a farlo? Ma certamente noi proseguiamo Nonostante le critiche legittime e giuste di alcuni cittadini Che considerano la nostra politica una politica inutile Addirittura qualcuno ha detto propagandistica Qualcuno la considera anche una presa in giro nei confronti dei cittadini Ecco, io dico a queste persone di leggere lo statuto del comune di Voghera Perché magari non lo conoscono o fingono di non conoscerlo Comunque lo statuto all'articolo 52 dice che le petizioni sono presentate da singoli cittadini Residenti o domiciliati nel comune O da gruppi di cittadini con le stesse caratteristiche Vengono presentate al sindaco per rappresentare un'esigenza collettiva O comunque di interesse pubblico Ed eventualmente per sollecitare un adeguato intervento Degli organi di governo politico amministrativo Quindi noi continueremo a presentarle e a chi le presentiamo al comune Perché è l'ente più vicino ai bisogni dei cittadini Il quale è chiamato a darci una risposta A impegnarsi se è di sua competenza E quindi noi continueremo su questa strada Perché è l'unico strumento che noi cittadini abbiamo Un strumento previsto dallo statuto per rappresentare al sindaco che rappresenta il comune Un disagio o un'esigenza dei cittadini La vostra presenza costante sui mass media viene spesso criticata E venite accusati di essere alla ricerca di visibilità Come giustifica il fatto che siate così tanto presenti sui mass media? Noi per primi di Occhio Pavese vediamo volentieri spazio Proprio perché comunque si affrontano tematiche che coinvolgono i cittadini Beh allora qualcuno ha detto ma quello che fate è inutile Lo fate soltanto per la vostra propaganda Perché tutti i problemi di cui parlate si conoscono a Voghera da 20 o 30 anni Sì però se nessuno ne parla Se si dà sempre per scontato tutto Dicendo ma sì tanto lo sanno anche gli amministratori Si fornisce agli amministratori un alibi per poter dire io non conosco il problema Quindi il nostro ruolo anche sui mass media È quello di essere presenti Far conoscere giorno per giorno Tutti i giorni A chi amministra che i problemi ci sono E che devono essere messi in risalto Grazie a tutti Grazie a tutti